cari amiche nuovo tutorial oggi andiamo a realizzare un cocoon con il filato sospiro allora io non riesco a farvelo vedere tutto perché è molto largo e mi piace ho voluto realizzare un cocoon che sia abbastanza largo fino diciamo al gomito ma anche più e poi che arrivi oltre ai fianchi per cui mi piace tanto e l'ho voluto realizzare grande per la mia taglia una ml ho realizzato un pannello di circa un metro e 10 e una lunghezza fino 88 cm vi do le misure prima così andiamo adesso a realizzare un campione perché il punto insomma si ripete è facilissimo ho scelto un punto proprio che fa in modo che non avete problemi di memorizzare perché quando andiamo a realizzare un pannello così grande non vogliamo insomma perdere tempo anche a memorizzare il punto per cui super facile d'effetto adesso ve lo faccio vedere in questo modo così si eccolo qui ve lo faccio vedere in questo modo che si vede meglio eccolo così si si apprezza tantissimo il punto facile e veloce da memorizzare e in qualsiasi modo mettiamo il nostro cocoon e non abbiamo il problema se le v oppure il ventaglio sia messo diciamo nel punto non sia insomma al contrario non lo indossiamo al contrario così come lo mettiamo sta sempre bene per quanto riguarda le misure potete realizzarlo più piccolino se siete una s potete realizzare 10 15 cm di meno va benissimo e farlo leggermente più corto poi questo dipende da come vi piace indossato se preferite semplicemente una fascia che copre fino alla vita lo fate più piccolino per cui il cocoon è bello per questo si realizza un rettangolo andiamo a lavorare facciamo una rifinitura il gioco è fatto per quanto riguarda le manichite io non sono andata a realizzare lo stesso bordo anche se con questa misura ho utilizzato 400 grammi di filato per cui quattro gomitoli non ho utilizzato di più per quello che resta possiamo realizzare uno scaldacollo possiamo realizzare benissimo anche un cappello ma con questo filato ho preferito realizzarlo molto lungo farlo un pochino diverso dal solito per cui se fate la mia stessa misura la stessa grandezza del diciamo di questo pannello potete anche realizzare insomma avete 100 grammi per realizzare anche il bordo delle manichine o aggiungere un bordo ancora più largo questo dipende da voi la misura più piccolina potete fare un metro 95 centimetri e poi realizzarlo fino a 70 cm questo dipende ovviamente la tecnica è sempre la stessa delle cuciture facile andiamo a chiudere il rettangolo e cuciamo diciamo la parte esterna e lasciamo ovviamente il passaggio delle braccia facile veloce un progetto che in questo periodo anche per i regali di natale si può fare io l'ho realizzato veramente in due giorni non ci vuole niente anche se il pannello è molto grande ma il filato ci permette di lavorare con molta velocità visto che andiamo a lavorare con un scinetto 7 adesso andiamo a vedere il filato da vicino e partiamo con un tutorial il filato che ho scelto per questo progetto è il sospiro un filato che io adoro con il 30 per cento di lana il 70 per cento di agrilico sono 100 grammi questo comitolo 150 metri si lavora con i ferri dal 6 all'8 e l'uncinetto dal 5 al 7 io ho scelto come il colore in macenta che mi piace tantissimo è un filato veramente molto morbido e coccoloso andiamo ad utilizzare un uncinetto 7 per questo progetto ho utilizzato per una taglia ml quattro gomitoli allora adesso andiamo ad avviare il punto il multiplo è di 10 più 7 io ho avviato 107 catenelle ma in base alla vostra misura decidete se avviare meno catenelle vi ricordo che togliete 10 10 maglie al limite per renderlo più piccolino o 20 addirittura fate un campione prendete il centimetro in base a quello potete fare l'avvio se avete una misura diversa allora adesso io farò un campione dopo aver avviato 107 catenelle vado ad avviare una catenella in più entrò nella catenella da lavorare realizzo una maglia alta ma io realizzo la maglia 2 maglie basse una sopra l'altra proprio per in questo modo per rendere più diciamo più resistente il nostro avvio questa è la prima ora vado a realizzare 5 maglie alte vado sulla catenella successiva prendo bene il punto e vado a realizzare la prima maglia alta la seconda la terza la quarta e la quinta in totale sono sei maglie alte però ovviamente le maglie che andiamo a ripetere sono 5 questo è semplicemente una d'inizio adesso adesso realizziamo una maglia alta entrando nella prima nella seconda nella terza catenella vado a realizzare una maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado a sciogliere qui il filato che siene ecco qui poi prendo il filo entro sullo stesso punto e vado a realizzare una maglia alta sullo stesso punto adesso conto 123 entro nella terza e vado a realizzare 5 maglie alte su ogni catenella la prima la seconda la terza la quarta e la quarta e la quinta adesso andiamo a ripetere di nuovo questo punto diciamo punto v con 5 catenelle di separazione per cui prendo il filo intorno nella prima nella seconda ma nella terza e lavoro la prima maglia alta la seconda la prima maglia alta la seconda la prima maglia alta la seconda la quarta la quinta e la quinta e la sesta come vedete rientrano proprio perfette per cui vado a lavorare la seconda la terza la quarta la quinta e la sesta vi ricordo che quando andiamo a lavorare le maglie alte d'inizio devono essere sei al centro invece della lavorazione ne saranno cinque la prima diciamo l'ultima maglia alta sono semplicemente di bordo allora adesso volto il lavoro e vado a lavorare la seconda riga sono due righe da memorizzare le altre due sono sfalzate ma i punti sono gli stessi vado a lavorare una maglia alta io lavoro sempre due maglie basse una sopra l'altra vado a lavorare punto su punto delle maglie alte per cui la seconda maglia la terza maglia alta la quarta la quinta e la sesta per cui abbiamo di inizio sempre sei maglie alte quando lavoriamo le maglie alte adesso vado a realizzare due catenelle entro dove ci sono le cinque catenelle con l'uncinetto e realizzo una maglia bassa 2 catenelle adesso vado a lavorare ripeto il punto le maglie alte per cui vado a ripetere il punto maglia alta sono 5 in totali maglia alta maglia alta di nuovo è la quarta maglia e la quinta ripeto ancora 2 catenelle 1 e 2 entro dentro le cinque catenelle maglia bassa 2 catenelle e vado a lavorare di nuovo tutte le maglie alte siamo alla fine della riga per cui ne sono sei alla parte centrale vi ricordo sono solo 5 solo all'inizio e alla fine ne sono sei la quinta e la sesta adesso volto il lavoro andiamo a lavorare adesso sfalzato per cui per lavorare sfalzato i punti sono sempre i stessi riprendiamo dalla prima riga ma lo facciamo sfalzato per cui questa parte diciamo forata questo punto a v andiamo a realizzare all'inizio facciamo sempre d'inizio una maglia alta adesso vado a realizzare questo punto prendo il filo entro nella qui diciamo nella terza prima seconda e terza maglia alta al centro perché la prima maglia alta io non la conto ho realizzato una maglia alta 5 catenelle prendo il filo entro nello stesso punto ora senza fare nessuna catenella prendo il filo entro dove ci sono le due catenelle che abbiamo fatto in precedenza entro con l'uncinetto dentro e realizzo due maglie alte la prima nella seconda dove c'è la maglia bassa realizza una maglia alta e ora realizzo una maglia alta dove ci sono le due catenelle ancora e ho terminato diciamo il primo gruppo ora che cosa dobbiamo fare ripetere da capo ripetere da capo prendo il filo entro nella terza maglia quella centrale realizzo una maglia alta 5 catenelle prendo il filo entro se lo stesso punto maglia alta vado a lavorare cinque maglie alte proprio qui per cui prendo il filo entro due maglie alte dove ci sono sottostanti le due catenelle una maglia alta sopra la maglia bassa e due maglie alte dove ci sono le catenelle sottostanti quelle che ne sono due ora ripeto ancora entro nella prima seconda ma nella terza maglia alta maglia alta 5 catenelle che ripeto sempre il punto prendo il filo rientro sullo stesso punto maglia alta vado a chiudere la maglia alta sull'ultima maglia alta che sarebbe la sesta e ho concluso la riga adesso andiamo a concludere la riga come faccio vado volto il lavoro realizzo una maglia alta perché partiamo sempre con una maglia alta 2 catenelle perché si riprende lo step della seconda riga per cui 1 2 catenelle entro dalle 5 catenelle maglia bassa ripeto tutto 2 catenelle e che cosa vado a lavorare le maglie alte lavoro le maglie alte tutte e cinque facilissimo di sono le 5 maglie alte ci lavoro di nuovo le 5 maglie alte questo come potete memorizzarlo ecco qui adesso 2 catenelle maglia bassa sulle 5 catenelle 2 catenelle e vado a lavorare le maglie alte sulle maglie alte sulle maglie alte ne sono cinque e questa è l'ultima ripeto ancora 2 catenelle vado a lavorare sull'archetto la maglia bassa 2 catenelle vado a lavorare la maglia alta sull'ultima maglia alta adesso vado a ripetere tutto da capo dall'inizio per cui per inizi vi faccio rivedere la prima riga qui sono quattro righe ma diciamo due dare da memorizzare cui riparto di nuovo con una maglia alta dobbiamo fare adesso il gruppo basso sono tutte maglie alte per cui vado a lavorare 2 maglie alte dove ci sono le 2 catenelle vi faccio vedere e vado a lavorare la maglia alta sulla maglia bassa che devo fare le 5 e 2 maglie alte sulle 2 catenelle qui sto ripetendo la prima riga adesso vado a lavorare ovviamente il punto av entrando nella terza maglia terza maglia maglia alta e il 5 catenelle cui vi faccio rivedere ma ma alla fine è sempre lo stesso per cui non utile che adesso da qui vado dove ci sono le due catenelle qui si ripete tutto da capo il punto è sempre lo stesso non cambia perché andiamo semplicemente cambia all'inizio ma le righe da memorizzare sono due facilissimo da memorizzare ci vuole veramente un attimo così andiamo a lavorare un pannello così che è un pannello grande facciamo in modo che non ci stressiamo di andare a lavorare un punto troppo complicato questo è super super facile adesso vi faccio vedere le misure del pannello che ho terminato e andiamo a rifinire il nostro cocoon allora ho terminato il pannello è veramente molto grande questo questo è il punto e l'effetto allora la larghezza ce l'abbiamo detta che è di un metro e 10 ma sono andata avanti fino a 88 centimetri questo poi lo dovete misurare poi in base sempre alla vostra misura però io credo che sia un po standard lo voglio molto molto grande e comodo per cui credo che sia assolutamente perfetto allora adesso che ho l'ho chiuso in due vado a cucire le parti laterali eccole qui allora vado a lasciare all'incirca 20 centimetri vado a cucire il restante 20 centimetri perché comunque mi deve entrare deve entrare il braccio voglio che sia comodo alla circonferenza per cui 20 centimetri sono perfetti potete farne 18 oppure anche di più però ne faccio 20 centimetri vado a mettere un marca punti e inizio la cucitura in tutti due i lati adesso inizio la cucitura possiamo mettere un marca punti io so che mi dà il disegno so che mi devo fermare in questo punto proprio insomma quasi alla alla metà non proprio per cui vado non ho bisogno del marca punti ma poi insomma mettetelo allora vado una volta che ho fissato il filo fate attenzione perché stiamo lavorando con un filato che comunque se tiriamo troppo si potrebbe spezzare perché si toglie tutta la diciamo la torsione del filato per cui fate attenzione anzi l'ho fatto anche troppo lungo e adesso vado a cucire fino a lasciare un'apertura di circa 20 centimetri sto cucendo ovviamente a rovescio vado piano piano fino a lavorare anche dalla parte opposta e poi andiamo a a fare tutte le rifiniture del nostro cocon proseguiamo adesso che ho cuscito la parte in diciamo dei laterali vado a rifinire tutto intorno all'interno per cui vado alla parte centrale qui ci sono le ma diciamo le maniche dove si inseriscono le braccia e vado a rifinire con delle maglie alte poi possiamo fare maglia rilievo possiamo rifinire come come preferiamo adesso faccio passare con una catenella e vado fissare bene il punto prendo il filo posso andare a lavorare sia le due maglie basse una sopra l'altra che corrispondono una maglia alta eccola qui e adesso lavoro punto su punto tutto il giro poi possiamo andare a lavorare anche a rilievo vedete poi qui abbiamo lavorato qui ci sono due maglie come abbiamo sempre fatto anche nello schema vado a lavorare quella centrale sempre a maglia alta talgo così si vede anche si vede anche meglio ecco lavoro le due maglie dove ci sono le catenelle e adesso vado a lavorare punto su punto vedete facile tutto intorno poi possiamo andare a lavorare a rilievo questo in base a quanto lo vogliate chiudere potete anche lavorare solo il davanti e il dietro no solo una rifinitura però io riesco a lavorare in tondo e proseguo qui due e qui una e questo è l'effetto adesso che ho completato tutto il giro vado a lavorare a maglia rilievo per cui entro nella prima moglie realizzo una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa come zio perché una andiamo a lavorare in avanti e una lavoriamo dietro in questo modo in avanti dietro sempre rilievo completiamo il giro poi decidiamo quante quanti giri vogliamo realizzarne possiamo fare 3 4 5 anche di più proviamo il nostro cocoon in maniera di decidere quanta larghezza per il nostro bordo allora ho terminato ho fatto semplicemente tre giri non vado oltre non vado a realizzare diciamo più giri perché a me non serve qui possiamo andare a rifinire semplicemente a maglia bassa perché non voglio la manichina però potete sempre fare tre giri se volete agganciarvi e andare a fare la manichina laterale questo in base ai vostri gusti io preferisco insomma rifinire un pochino a maglia bassa ma molto leggero molto lento e basta allora il mio cocoon è pronto è abbastanza è abbastanza largo vi ricordo le misure è largo un metro e dieci ma potete farlo anche un pannello più piccolino a cui sono andata oltre fino a 88 84 cm poi in base a come lavorate oppure se scegliete un altro tipo di filato fino adesso ho utilizzato quattro gomitoli del sospiro solo 4.000 cui 400 grammi e vi posso dire che insomma fino alla l poi dipenderà come lo utilizzate se vi piace che si chiude davanti andate più avanti e potete in modo che si chiude leggermente più davanti a me perfetto diciamo in questo modo allora io vi saluto spero che questo tutorial vi sia piaciuto vi lascio sotto tutte le indicazioni sia del blog sia del filato e tantissime altre informazioni un bacione e ci vediamo ai prossimi video